Sì, grazie Presidente. Purtroppo sono costretto a definire insoddisfacente la risposta. Insoddisfacente perché non risponde a alcune domande importanti e presenti in premessa sui costi di quest'operazione e sul fatto che risponde in maniera generica agli indicatori richiesti, quali indicatori di esito e di processo, quali aspetti economici si conta di raggiungere, dice soltanto che le cose vanno tutte bene, che c'è una riorganizzazione in corso e che quello che ci si aspetta è comunque un mantenimento della qualità. Mantenere la qualità io dico che è insoddisfacente, va migliorata la qualità. Basti pensare, si parlava d'oculistica prima, basti pensare a quello. Ci sfuggono addirittura cose segnalate in letteratura, perché la questione dell'infezione oculistica a Careggi è roba segnalata, non è una cosa che è solo un evento sentinella. Andava allertato davvero il centro del rischio clinico regionale. Forse dovremmo sentire anche Tartaglia in Commissione. Quindi la risposta è assolutamente insoddisfacente, serve esclusivamente a motivare in maniera generica e secondo noi anche un po' demagogica questa esternalizzazione di servizi con un grande rischio di andare sempre verso dare più credito al privato piuttosto che al pubblico. Del resto Villa Ragionieri sappiamo chi è la proprietà, sappiamo come sono andate certe questioni, ma la cosa più grave è che noi abbiamo una sottoutilizzazione delle sale operatorie già esistenti nelle aziende sanitarie. Santa Maria Nuova, Pontanniccheri e Torregalli a Firenze, ma anche Figline, la cui sale operatoria è stata ristrutturata due anni fa e lo Iotti stesso, stanno lavorando mediamente fra il 30 e il 50% di indice di operabilità. Quindi non è giustificato esternalizzare all'esterno, bisogna far lavorare al 100% le sale operatorie dell'azienda. Senza contare che è un aspetto importante che i chirurghi dell'azienda vanno a operare in strutture dove non hanno a proposito di amalgama e di fare gruppo, non hanno dimestichezza e confidenza con lo staff anestesiologico, con lo staff infermieristico, cosa che invece hanno nelle strutture di provenienza. Quindi è veramente impensabile solo l'idea di mantenerla alla qualità. Allora qui c'è da fare un lavoro più approfondo, bisogna andare a vedere i registri operatori, bisogna vedere quanti sono davvero i chirurghi che operano delle equip chirurgiche, perché se lavorano al 50% viene il sospetto che continuano a operare solo primari, senza che operino di aiuto. E questo è un aspetto che la Regione deve, la Giunta deve valutare da questo punto di vista. quindi credo che in questo senso questa risposta non possa che essere insoddisfacente, oltre che a essere non esatta, nel senso non ha risposto alle domande.